Buongiorno bambini, vi propongo un altro tipo di memory. Questa volta l'argomento è il corpo umano. Questo memory è composto da due mazze di carte, uno con le immagini e la scritta in inglese, quindi la testa, head, corpo, body, ear e tutte le parti del corpo. Mentre nel mazzo di carte azzurra c'è la traduzione in italiano, quindi la testa, dita dei piedi, dita delle mani, piedi e così via. Come si gioca? Intanto si formano due mazzetti di carte incollando le immagini con i disegni e le immagini con le scritte su due mazzi di carte diverse, quindi basta ritagliare delle rettangoli di cartoncino colorato, il primo mazzo con le immagini di un colore e scegliamo un altro colore per quanto riguarda il mazzo di carte con la traduzione in italiano. Poi si dispongono tutte le carte del mazzo rosa e tutte le carte del mazzo azzurro dall'altra parte e ogni giocatore, minimo due giocatori, ogni giocatore comincia a scegliere due coppie di carte, una carta rosa e una carta azzurra. Ad esempio, questo è soltanto appunto un primo esempio che vi faccio, Winx e Ali. In questo caso la coppia è giusta perché Winx sono le ali e quindi posso andare a formare la coppia e chi ha vinto questa coppia di carte può continuare il gioco finché, per esempio, in questo caso Legs e Braccio, no, non è la traduzione giusta, quindi giro di nuovo le carte e continuo un altro giocatore finché non finiscono tutte le carte e sono formate tutte le coppie di carte. Quindi vince alla fine chi ha ottenuto, quindi chi ha vinto più coppie di carte. Buon lavoro!